Buongiorno a tutti, siamo con il professor Luigi Guerra, pedagogista, lui è stato docente di pedagogia in diverse università italiane, in particolare ultimamente ha insegnato presso la Facoltà di Scienza della Formazione di Bologna, che attualmente opera presso l'Università di San Marino, dove è direttore del Dipartimento di Scienze Umane. Perché parliamo con il professor Guerra? Perché lui è stato uno dei più stretti collaboratori di Franco Frabboni, che come sapete è mancato proprio pochi giorni fa. E con il professor Guerra parliamo proprio di Luigi Frabboni, che certamente è stato uno dei più importanti pedagogisti italiani della seconda metà del Novecento. È stato attivo ancora fino a non molti anni fa e a Frabboni dobbiamo veramente molto, perché ora lo vedremo parlandone con il professor Guerra, lui ha avuto questa straordinaria capacità di mettere insieme, diciamo, gli aspetti teorici della pedagogia con gli aspetti pratici, operativi. Ecco, adesso ne parliamo. Senta, professor Guerra, però la prima cosa che mi viene da chiederle è, ma lei come aveva conosciuto Frabboni? Io sono di Nonantola, in provincia di Modena, studiavo a Bologna filosofia. Ero veramente molto squattrinato e quindi ammetto che la prima conoscenza è stata legata al fatto che una comune amica, che faceva la volontaria presso il Dipartimento di Pedagogia, mi presentò a Frabboni perché faceva una sperimentazione nelle colonie di vacanza. E io, che allora ero attivo, così diciamo, nel mio tempo libero, settori, campeggi e cose del genere, andai a incontrare Frabboni che mi fece partecipare a un lungo corso di formazione, perché era molto serio in questa cosa, legato a diventare animatore di colonie di vacanza. Era una sperimentazione che seguiva Frabboni, nel 69 è successo questo, 68-69. C'è una sperimentazione con l'amministrazione di aiuto internazionale legata ad ospitare a Cesenatico ragazzi provenienti dalle zone terremotate del Belice. In realtà, era magistero a Frabboni, io ero a lettere, fui favorito dal fatto di essere un uomo, lo ammetto, e di avere cinque sorelle, quindi come si può dire un'origine pedagogica. Diventai rapidamente importante all'interno della compagine, erano quasi tutte ragazze, perché gestire i ragazzi del Belice non era facilissimo. Quindi cominciai da lì, per motivi economici, 40 mila lire ci davano per turno di colonie di vacanza, cominciai ad interessarmi di pedagogia. E incontrai in Franco Frabboni, un maestro importantissimo, che mi fece innamorare della dimensione dell'educazione. Senta, professore, parliamo rapidamente della formazione di Frabboni. Frabboni era stato allievo di Bertin, da Bertin lui aveva ereditato il problematicismo pedagogico. Cosa vuol dire questo? Ma soprattutto poi il problematicismo di Bertin, lui come lo ha interpretato, come lo ha vissuto, come lo ha realizzato? Franco Frabboni è stato un allievo di Giovanni Maria Bertin un po' particolare. La sua vicinanza al pensiero del problematicismo pedagogico di origine banfiana, di Bertin lo ha accompagnato per tutta la vita, come lui ha accompagnato Bertin per tutta la vita. Ed è stato un punto di vista, quello del problematicismo, che l'ha guidato a poter stabilire delle relazioni professionali, anche teoretiche e operative, con posizioni diverse, appunto nell'angolatura problematicistica del non risolvere una volta per tutto il conflitto fra le diverse posizioni su un unico tema, ma di cercare di trovare una composizione, come si può dire, analizzando quali sono i contributi autentici che ogni posizione può portare al problema stesso. Questo l'ha accompagnato tutta la vita e l'ha messo in grado di dialogare a fondo, ad esempio con la pedagogia cattolica, che specialmente, diciamo, negli anni 70-80 era fortemente contrapposta alla pedagogia laica. Allora, Fraboni aveva una posizione precisa, ma nello stesso tempo è sempre stato capace di stabilire relazioni concrete, propositive, mediazioni anche a livello ministeriale, diciamo, con posizioni diverse dalla sua. Senta, professore, ma Fraboni si è occupato di moltissime questioni durante la sua attività. Vogliamo però ricordare in particolare due grandi riforme con le quali lui ha avuto a che fare. La riforma della scuola dell'infanzia, anzi della scuola materna come all'epoca si chiamava, quindi la nascita della scuola materna statale 1968, ma poi anche la costruzione dei primi orientamenti per la scuola dell'infanzia, questo è uno, e poi la seconda è stato il contributo assolutamente decisivo che lui aveva dato alla metà degli anni 80 per la redazione dei programmi della scuola elementare. Allora, iniziamo con la scuola dell'infanzia. Mario, proprio nella chiave che proponevamo prima della capacità di utilizzare il problematicismo pedagogico come angolatura costruttiva, Fraboni nella scuola dell'infanzia ha dato un contributo fortissimo prima di tutto recuperando e cercando di mettere insieme il contributo di grandi pedagogisti, da Agazzi, Montessori, Frebel. Lui è nel suo volume fondamentale sulla scuola dell'infanzia, che ha guidato tra l'altro anche la preparazione di migliaia di insegnanti, ha teorizzato una scuola dell'infanzia moderna, non più l'asilo, diciamo, non più soltanto legato a funzioni di badantato, e fin dall'inizio, fin dalla costruzione dell'appendice dell'articolo 2 della 444, che è uscita nel 69, collaborò allora informalmente, in particolare con Catti, con Monsignor Catti, che fece allora la componente legata all'educazione religiosa e la fece in una chiave molto, molto aperta, molto, molto importante, non, diciamo, legata a un'idea di religiosità quanto mai moderna, lo possiamo dire oggi a 50 anni di distanza. Successivamente, ovviamente, Fraboni invece ha fatto parte, avendo lanciato insieme a Bertonini la rivista Infanzia, ed essendo quindi, specialmente nel territorio dell'Emilia Romagna, che era uno dei luoghi dove si sperimentava maggiormente la nuova scuola dell'infanzia, essendo un esponente di questi movimenti, ha partecipato alla stesura del nuovo orientamento della scuola dell'infanzia da primo attore, portando avanti l'idea appunto di una scuola che necessitasse di un insegnante di pari formazione rispetto a quello della scuola primaria, una scuola attenta non soltanto alle dimensioni relazionali, ma ovviamente, oltre a quelle che sono importantissime, attenta anche alle dimensioni, diciamo, della formazione cognitiva, della formazione scientifica, della formazione ambientale, e via dicendo. E questo è stato un suo grossissimo contributo. Ecco, e invece, per quanto riguarda la scuola elementare, come in quella fase si chiamava ancora, abbiamo appunto il contributo che lui aveva dato ai programmi del 1985, un contributo importante, lui aveva fatto parte della Commissione Nazionale. E forse proprio grazie a lui, anche grazie a lui, che quella commissione riuscì a lavorare pur essendo composta da anime diverse. Sì, penso, io penso, mi risulta proprio che abbia dato un contributo fondamentale insieme ad altri, ad esempio, voglio ricordare Sergio Neri, fra gli altri, e il contributo è stato quello di riuscire appunto a mediare con posizioni più severamente legate alla tradizione. Batti pensare che il ministro interlocutore era la Falcucci, la famosa sottosegretaria pubblica di istruzione che aveva rappresentato la continuità, diciamo, più forte rispetto alla scuola tradizionale. Guardi, non ne sto parlando male, usando questo oggettivo. Sto parlando di una scuola fortemente attenta a conservare certe valorialità, che non è peraltro che fossero in fronte delle nuove inventate, prevalentemente di natura attiva, ma dovevano appunto comporsi costruendo una scuola migliore. Ecco, lui, credo, Fraboni non era uno specialista di insegnamento di didattiche, che so io, della scienza o della lingua, non era uno specialista di didattiche applicate, ma era fortemente attento a propugnare l'esigenza di una maggiore scientificità dell'approccio didattico. La sua attenzione nella costruzione di quei programmi fu proprio portata a far sì che si soltituissero a delle frasi troppo generali, magari belle, importanti, ma troppo pompose per diventare poi avvalcabili da parte agli insegnanti, delle frasi, cioè delle indicazioni, degli orientamenti che gli insegnanti potessero comprendere e che si potessero quindi trasformare in vessilli da portare nella scuola militante, nella scuola su campo. Questa continua attenzione con la scuola su campo l'ha guidato poi dopo nel quadriennio dell'aggiornamento legato ai nuovi programmi della scuola elementare ad essere protagonista non soltanto nella regione Emilia-Romagna, protagonista di innovazione e di sperimentazione. Senta, professore, Fraboni era sotto certi aspetti, se possiamo dire, profondamente emiliano, perché lui aveva molto a cuore anche un altro grande tema che è sempre stato caratteristico per il vostro territorio, cioè il tema appunto del rapporto fra scuola e territorio. Ricordiamo appunto il lavoro fatto da Sergio Neri, il lavoro fatto da Bruno Ciari, che pur essendo toscano però aveva lavorato molti anni molti anni a Bologna e quindi insomma questo tema del rapporto col territorio però stava molto a cuore anche a a Fraboni o no? Guardi, anzi abbiamo esordito in questo incontro parlando di scuola dell'infanzia e scuola elementare però devo dire che la la genesi, la nascita di Fraboni come pedagogista è legata a fuori scuola. Il suo primo volume significativo si chiama la scuola fuori abbiamo parlato prima di colonie di tempo libero infatti le colonie di vacanza abbiamo fatto insieme volumi più di volumi legati all'idea di città educativa lanciamo insieme le prime ludoteche anzi la prima ludoteca pubblica a proposito di ludoteca lei è stato insieme con Fraboni un protagonista ed è ancora oggi un testimone di una iniziativa interessantissima di quegli anni perché proprio nella sua cittadina a Nonantola nacque forse la prima ludoteca in assoluto in Italia come era andata la faccenda? come mai proprio a Nonantola nasce questa ludoteca? ce lo racconti? guardi andammo Fraboni io e un altro collega che è insegnato lungo nelle scuole modenese che si chiama William Garagnani andammo insieme a un convegno organizzato da una società della regione Umbra Umbria Giochi dove incontrammo Gianni Rodare andammoci insieme lui ci disse mi ricordo molto bene ci disse sono stato a Parigi dove ho visto questa giocoteca non mi ricordo che per me giocoteca la chiamavo e poi ce ne parliamo e Fraboni mi disse guarda ok la settimana dopo mi spedì lui era il mio capo mi spedì a Parigi al dodicesimo arrondissement dove vedemmo appunto la ah nero io vivi la biblioteca che allora era aperta e era profondamente diversa da quella che poi lanciamo in Italia dopodichè noi mettiamo appunto un modello che era legato a due matrici quella diciamo diciamo più di natura egalitaristica cioè fornire a tutti il giocattolo ma quella anche di muoversi a cavallo tra la liberazione del gioco e l'insegnamento del gioco cioè il gioco va liberato o va insegnato è un dibattito che viene da lontano questo era un luogo in cui il bambino potesse giocare libero dei condizionamenti ma liberare dei condizionamenti vuol dire anche esporlo sistematicamente a un quadro di sollecitazioni che lo facciano conoscere le cose che ci sono nel gioco ecco questa questa idea ci guidò ad aprire la prima ludoteca pubblica a non antola la prima a non antola la prima pubblica perché contemporaneamente qualche giorno prima ne aprimo una anche nelle dopo scuole delle delle dei sindacati a firenze ma quella era diciamo privata la prima pubblica nel comune di non antola io ero casualmente allora assessore della pubblica istruzione come attività volontaria tutti un po' lei citava prima l'emiglia in emiglia la commissione fra l'impegno teorico a livello universitario o scolastico e la militanza nei comuni in cui uno risiede diciamo è comune e allora io ero assessore pubblica istruzione a primo giovanissimo a primo la prima ludoteca d'Italia mi ricordo costa 250.000 lire l'apertura di queste sarebbero attualmente 125 euro senta io chiuderei con una considerazione Fraboni è diventato noto anche per un suo modo molto particolare di scrivere lui usava moltissimo le metafore cioè un articolo di Fraboni lo si riconosceva proprio a prima vista perché era ricchissimo di metafore ma come mai lui scriveva per metafore da cosa derivava questo suo stile di scrittura lei che lo ha conosciuto e che lo ha frequentato per molti anni sicuramente ci può dare una risposta guardi Fraboni non scriveva solo per metafore secondo me viveva per metafore pensava per metafore era il suo pensiero era fatto di immagini aveva un pensiero molto molto legato all'immagine l'immagine è un fatto affolgorante poi a volte ripetuta può diventare per alcuni era poteva anche essere pensata come una cosa pesante per altri era molto facilitante alcune delle sue metafore la locomotiva il trenino della programmazione rimangono tutti lo sanno Fraboni era incopiabile quindi quando uno studente in un compito copiava Fraboni non si vedeva da lontano due chilometri questo suo pensiero era perché la scrittura di Fraboni non era una scrittura immediata di getto Fraboni passava molte ore a scrivere levigava moltissimo nei suoi libri se uno va a vedere è difficile trovare come si può dire delle imperfezioni di natura tecnica come invece in altri altri autori sono un pochettino più trascurati lui era molto attento e l'idea di trovare la volontà di trovare qualche flash appunto qualche idea guida che potesse essere aperta e compresa da tutti per poi scavarla meglio dentro ecco questa idea era presente sempre per lui la metafora era per lui non soltanto un veicolo di comunicazione in direzione di facilitazione ma era anche una capacità di trovare una sintesi le sue metafore erano per lui delle sintesi di quello che pensava io l'ho sempre visto anche nel privato ragionare per metafora era impossibile passare dieci minuti con Franco senza che inventasse un'immagine una specie di folgorazione immagino che questa frequentazione e questa collaborazione che lei ha avuto con Franco Fraboni l'abbia arricchita particolarmente che cosa più di tutto qual è secondo lei la cosa che più di ogni altra lei ha imparato da lui direi che la cosa che l'impegno cioè Fraboni è stata una persona impegnata engagata cioè impegnata fino in fondo una persona che alle sette del mattino era all'università e alle sette di sera era ancora all'università cioè era una persona capace di studiare di stabilire molte relazioni nello stesso tempo una persona che non mollava mai quindi una vitalità però non una vitalità con un vitalismo che so io una vitalità è una passione legata a un rigore di impegno che al di là di tutti i contributi in natura teorica che lui ci ha fornito rimane nel mio pensiero come come immagine questa capacità di essere sempre presente di voler sempre essere presente questo di portare sempre una testimonianza lui tra l'altro proprio pochissimi anni fa ha fatto un libretto nel quale racconta anche la sua vita da bambino ai tempi della seconda guerra mondiale eccetera brilla sempre rimane sempre fuori questa sua volontà di essere partecipe di far parte di essere presente alle cose che stanno succedendo questo secondo me non tirarsi mai fuori ecco questo per me è la lezione principale di Franco la ringraziamo professore di queste sue parole di questo bellissimo ricordo anche ricco di spunti di carattere personale che lei ha fatto di Franco Fraboni grazie ancora davvero ringrazio a lei buongiorno ringrazio a lei ringrazio a lei ringrazio a lei ringrazio a lei grazie a lei ringrazio a lei è la grazia kia ringrazio a lei Grazie a tutti.